buongiorno a tutti benvenuti al webinar di oggi che come gli altri e quali avete avuto modo di partecipare si inserisce nel progetto delivery unit nazionale e è una delle ultime occasioni di incontro perché il progetto che è stato molto lungo volge al termine e oggi siamo veramente molto contenti di ospitare un'esperienza di condivisione di una pratica di un'ottima pratica che mostra quanto il suo app abbia nel suo ruolo e nella sua evoluzione guadagnato delle anche delle competenze e un ruolo che che aiuta davvero davvero nella nella gestione delle delle attività. Il webinar di oggi mi dicevo l'esperienza che ci viene riportata è un'esperienza della regione Friuli e Venezia Giulia a presentarcela sarà la dottoressa Monica Feledigio che è la coordinatrice della struttura per la semplificazione e il coordinamento normativo amministrativo e digitale in maniera di swap e due esperti della regione il dottor Bisentini e il dottor Luca Chicco che ci mostreranno e ci presenteranno questa esperienza. Invito la dottoressa Feledigio ad accendere la webcam così da poterle perfetto la vedo buongiorno Monica da poterle passare la parola vi ricordo che per qualsiasi cosa potete scrivere in chat io sono in back quindi se ci sono problemi vi invito a scrivere in chat le domande le riflessioni e ovviamente tutto quanto possa portare un contributo ai lavori della giornata noi come sempre lasciamo gli ultimi 5-10 minuti della presentazione per le vostre domande le domande che non troveranno risposta durante la presentazione verranno poi prese in considerazione successivamente avrete risposta sempre nel solito file allegato al sia ai materiali che alla registrazione e ora un attimo soltanto che condivido il documento eccoci qua della dottoressa Feledigio le passo la parola e resto qui in back per qualsiasi cosa buon lavoro grazie infinite e buongiorno a tutti un cordiale benvenuto e grazie a Formex per aiutarci come sempre a comunicare questa iniziativa la divulgazione è importantissima anche perché vogliamo proprio condividere con voi oggi una scelta che ha fatto la nostra regione la regione Friuli Venezia Giulia di gestire le procedure comunali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture socioeducative per minori tramite lo sportello unico comunale per le attività produttive una scelta precisa sì è vero abbiamo forse un pochino forzato la mano rispetto a quelle che potrebbero essere le ordinarie materie di cui si occupa lo SUAP secondo quantomeno la lista contenuta nel decreto legislativo 59-2010 quando pensiamo al SUAP pensiamo al commercio pensiamo alle strutture ricettive all'artigianato all'agricoltura e anche ai servizi certo questi sono servizi per minori sono dei servizi un pochino particolari rispetto quantomeno alla lista classica i colleghi della direzione centrale salute che mi seguiranno ci racconteranno ci racconteranno come è avvenuto il processo di digitalizzazione sul portale regionale e come sta procedendo questa esperienza io invece mi voglio un attimo focalizzare soffermarmi proprio sulla scelta che la regione ha fatto di credere in che cosa nella capacità gestionale che caratterizza lo sportello unico nella sua funzione di coordinamento quel coordinamento quella regia che è stata di fatto definita nel lontano 2002 dalla corte costituzionale con la sentenza che citiamo qui e che probabilmente molti di voi conoscono il SUAP ha dimostrato nei suoi anni di operatività di essere come un direttore d'orchestra è un servizio che sa fare molte cose sa guidare e organizzare le attività di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico pubbliche amministrazioni che prima si comportavano come nell'immagine a sinistra come uffici autoreferenziali singoli ma il SUAP ha dimostrato anche di saper standardizzare processi procedimenti modulistiche tempi di erogazione del servizio il tutto in accordo con gli uffici e con gli enti coinvolti nel procedimento e non è finita il SUAP sa gestire procedimenti interamente in digitale non dimentichiamolo in modo più trasparente e molto resiliente rispetto alla gestione analogica ricordiamo tutti cosa è successo durante la pandemia quando i SUAP paradossalmente nel momento in cui le attività produttive chiudevano i SUAP sono stati forse gli unici uffici in grado di gestire completamente da remoto e senza difficoltà le procedure di avvio attività quella volta si parlava soprattutto di vendita o somministrazione, ce lo ricordiamo a domicilio del consumatore oppure vendita online ecco il SUAP ha dimostrato di saper orchestrare tutto e molto bene in oltre 10 anni di operatività e allora rifletto con voi sul perché il SUAP sa far bene queste cose da cui poi fatto da cui è derivata la scelta di immettere le procedure autorizzative di accreditamento delle strutture socioeducative per minori proprio sul SUAP i SUAP stanno bene perché i responsabili dei SUAP e i loro colleghi, i loro collaboratori in questi 10 anni hanno sviluppato tutte le competenze transversali necessarie per la gestione di progetti e attività complessi e guardate senza che nessuno li aiutasse a farlo e prima ancora che arrivasse il piano nazionale di ripresa e resilienza responsabili e operatori possono anche essere super esperti di una singola materia quindi possedere le hard skill tipiche di chi ha fatto un percorso di studi in architettura urbanistica, avvocatura, ingegneria ma tutto sommato le hard skill che hanno nel loro bagaglio culturale interessano meno rispetto alle soft skill cioè le competenze trasversali che hanno saputo sviluppare per gestire correttamente ed organizzare il proprio SUAP le soft skill, ne sentiamo parlare molto, sono quelle caratteristiche personali che influenzano la capacità di lavorare efficacemente con gli altri se pensate a quello che si fa in un servizio SUAP, e so che molti sono i SUAP presenti quindi penso che si riconosceranno in questa narrazione e non è difficile identificare le soft skill che caratterizzano gli operatori la capacità di gestione del tempo e dell'organizzazione di uffici dentro e fuori l'amministrazione comunale la capacità di pianificazione e gestione dei processi di lavoro ma anche la capacità di risolvere i problemi e di adattarsi a contesti che cambiano in continuazione pensate solo alle norme che ogni due per tre c'è un cambiamento la capacità di guida, il lavoro di squadra, di collaborazione ma anche la gestione della resistenza al cambiamento perché questo digitale ancora fa fatica a permeare un po' l'intero tessuto sociale del nostro paese la capacità di comunicazione dentro l'ufficio SUAP al di fuori dell'ufficio SUAP ma dentro l'amministrazione comunale fuori dall'amministrazione comunale verso la cittadinanza non è finita perché alle soft skill il personale SUAP deve quantomeno abbinare competenze digitali e anche un minimo, almeno un minimo di conoscenze giuridiche quindi c'è tanta competenza, conoscenza e abilità dietro questo ufficio e allora voglio farvi osservare ora come le competenze degli sportelli si collochino all'interno del framework delle competenze trasversali per il personale pubblico non dirigenziale adottato a giugno di quest'anno dal nostro ministro Zangrillo nell'ambito della riforma del mercato del lavoro prevista dal PNRR il piano nazionale di ripresa e resilienza guardate, il sistema dei profili professionali pubblici è riprogettato in un nuovo modello articolato proprio sulle conoscenze, sì ma soprattutto competenze e capacità caratteristiche ovviamente della posizione da ricoprire che significa questo? che nel nuovo sistema di profili professionali verso cui ci stiamo orientando non bastano più le hard skill, le conoscenze tecnico-specialistiche il cosa deve essere fatto ma ci serve sapere anche come deve essere fatto quindi si fa proprio riferimento a quelle soft skill che gli uffici SUAP hanno potuto maturare così bene in questi anni di operatività le competenze trasversali addirittura sono articolate lo vedete nell'immagine in questa torta in quattro aree rappresentate appunto in figura e gli indicatori comportamentali sono articolati su tre livelli e io vedo molto bene il SUAP nel livello 3 che è pensato per ruoli in cui ci si attende un'espressione della competenza ad elevata complessità ed autonomia ecco che in conclusione mi chiudo, mi avvio alla conclusione spero di avervi spiegato in maniera abbastanza adeguata la scelta di Regione FVG di portare le strutture socioeducative sul SUAP perché vedete l'aspetto tecnologico è importante ma lo sono molto di più nella nostra visione le persone che stanno dietro alla tecnologia e noi crediamo in quelle persone crediamo negli stortelli unici e li ringraziamo per tutto quello che fanno ogni giorno grazie grazie mille Monica passiamo ora la parola al dottor Vicentini per l'avvio della presentazione apriamo il documento chiedo al dottore di accendere la mia camera eccoci qua buongiorno a tutti intanto volevamo ringraziarvi appunto per l'opportunità che Forme si ha dato di portare questa nostra esperienza appunto così a molte persone ecco giusto un'introduzione intanto mi presento sono Emiliano FVG un funzionario della Regione FVG della Direzione Centrale Salute e lavoro nel servizio che si occupa di politiche sociali e integrazione sociosanitaria qui con me lo vedrete dopo c'è il collega Luca Chico anche lui dello stesso servizio io mi occupo più della parte appunto giuridica amministrativa e Luca entra più nelle competenze di contenuto per quanto riguarda appunto le politiche rivolte ai minorenni alle politiche agli interventi sociolocativi giusto per spiegarvi un po' come faremo appunto questa relazione intendiamo appunto portare la nostra esperienza farvi capire da dove siamo partiti quali erano le esigenze appunto della Regione esigenze di revisionare una normativa piuttosto vecchia e non più efficace non più rispondente a quelle che erano le esigenze appunto quello che richiedeva il territorio e come abbiamo costruito il regolamento con un processo di lavoro direi anche partecipato perché vedremo poi che è stato appunto molto condiviso con tutti gli stakeholders e poi tutta la parte al di là del mero disposizione del regolamento tutta la parte di accompagnamento e seguirà poi nella parte finale una valutazione anche critica di quelli che sono stati i punti di forza e quelle che sono ancora le criticità e le azioni che vorremmo in qualche modo intraprendere nel prossimo futuro per migliorare l'applicazione del regolamento anticipo già che appunto come diceva la collega Monica nel regolamento c'è stata una scelta non dico obbligata però è stata in qualche modo valutata e nata un po' dal basso quella di utilizzare un strumento come il suo che al momento crediamo con tutte le difficoltà operative che si hanno nel momento in cui si mette in atto appunto una revisione normativa così consistente come quella che abbiamo portato avanti ha dato una grossa mano a gestire procedimenti complessi a mettere insieme i diversi enti che sono coinvolti nelle procedure e in qualche modo a tener conto di quello che è appunto è tutto il contesto operativo in cui ci muoviamo allora io lascerei adesso appunto la parola alla relazione del dottor Chico che in qualche modo ci inquadra la materia e ci indica quelli che sono stati i presupposti dai quali poi sono scattolite la decisione di intervenire normativamente e di prodisporre il regolamento bene buongiorno a tutti come anticipato dal collega io sono Luca Chico lavoro alla direzione salute politica e sociali e mi occupo anche per le competenze che ho specificatamente di tutta la materia relativa a minori famiglie ho seguito diciamo dall'inizio questo processo questo processo che ha visto poi la nascita del regolamento per l'accoglienza in comunità residenziali e semi residenziali di minorenni in regione Friuli-Venezia-Giulia nell'impostare questo questo lavoro di oggi insieme un po' al collega abbiamo convenuto di partire un po' da quelli che sono stati i prerequisiti o gli assunti insomma dai quali siamo partiti e che poi hanno visto tutto un lavoro appunto di riclassificazione delle strutture residenziali e semi residenziali per minorenni presenti nella nostra regione ricordando anche un aspetto fondamentale che appunto le strutture erano autorizzate ai sensi di un vecchissimo regolamento dello 083 del 90 che ormai per sia per l'aumentare della complessità dei bisogni dei minori sia anche per la richiesta di un'offerta più diversificata richiedeva di essere assolutamente rivisitato richiedeva di essere rivisitato anche alla luce di quelle che sono state le linee di indirizzo per il collocamento dei minori in comunità proposte e previste a livello nazionale dallo Stato e che proprio in questi giorni sempre a livello centrale stanno per essere nuovamente rivisitate e riaggiornate rispetto alle normative alle nuove normative faccio riferimento così tanto per dare un o non cognome per esempio nelle nuove linee di indirizzo nazionale è stata recepita tutto il discorso che è presente ritroviamo appunto all'interno della riforma per cabbia ma non solo qual è la situazione quindi il titolo che noi abbiamo detto storia di un'esperienza forse a ben guardare e così riflettendoci un po' a posteriore forse potevamo dare questo titolo e cioè storia di un processo più che di un'esperienza perché è un processo ancora in divenire effettivamente nel senso che rispetto al tema autorizzativo di accreditamento delle comunità noi siamo partiti quest'anno i servizi sono ancora all'opera perché noi sul nostro territorio regionale contiamo circa un centinaio di comunità per minorenni di comprese le comunità per minori sanieri non accompagnati quindi è un lavoro ancora in itinere rispetto al quale come dirà il collega Emiliano Visentini che mi seguirà nel suo intervento dirà appunto che rispetto agli elementi raccolti di tipo qualitativo e quantitativo di questo processo ancora siamo in fase così di elaborazione dei dati tra virgolette detto questo qual'era la situazione dunque ritorniamo al 2017 perché questo processo ha avuto origine nel 2017 qual'era la situazione in regione Friuli-Venezia-Giulia rispetto alle comunità allora si registrava da un lato un incremento nel numero di collocamenti dei minori in comunità noi dal 2017 in avanti fatta eccezione per il periodo del covid che ha visto un così un momento di arresto legato all'accoglienza in comunità però diciamo che il numero dei collocamenti dei minori in comunità negli ultimi anni è stato significativamente crescente con una complessità di bisogni in particolare quelli riferiti alla fascia degli adolescenti e dei pre-adolescenti da ciò deriva la richiesta di diversificazione è derivata la richiesta di diversificazione di servizi con particolare riferimento a quelli rivolti ai neomaggiorelli sul nostro territorio regionale si registrava una presenza massiccia di comunità familiari comunità socioeducativa rivolte per lo più alla fascia della pre-adolescenza o dei bambini più piccoli quindi metascolare carente era l'offerta sul territorio di servizi per neomaggiorelli e per adolescenti e quindi diciamo questo regolamento ha voluto anche rispondere a queste esigenze a queste esigenze abbastanza massicce sul territorio regionale che non ricevendo risposta immediata comportavano per i servizi un collocamento dei minori fuori dalla nostra regione quindi questo è l'ultimo punto della slide necessità di aumentare l'offerta di servizi sul territorio regionale per contenere i collocamenti fuori regione quali sono i dati abbiamo fatto parecchie ricognizioni rispetto al numero di minori collocati in comunità l'ultima ricognizione che abbiamo fatto ed è stata una ricognizione effettuata nel 2019 volutamente prima del covid perché il covid ci ha portato ad una rilevazione di dati che non era rappresentativa della popolazione di minorenni collocati in comunità per i problemi che il covid ha comportato quindi al 2019 noi come vedete dalla slide abbiamo 9228 minori in carico ai servizi sociali dei comuni e una presa in carico rispetto alla popolazione minorile del 5,27% che cosa si registrava rispetto al collocamento in comunità al 2019 435 minori collocati in comunità e alcuni di questi in comunità in regione Friuli Venezia Giulia però vedete un numero significativamente alto di minori collocati fuori in regione minori collocati fuori in regione perché perché non c'era una disponibilità di posti nella nostra regione rispetto alle comunità presenti ma anche perché un altro degli elementi critici rispetto al ventaglio dei perchi di servizi residenziali presenti sul territorio Triuli Venezia Giulia un punto un'area ceca un punto di carenza era presentato sicuramente dall'assenza di comunità terapeutica nel senso che sempre di più si registra per gli adolescenti e tre adolescenti un bisogno di un accompagnamento non solo socioeducativo ma anche socio sanitario ad alta intensità assistenziale un dato di spesa un dato di spesa altro elemento che sicuramente è stato uno dei motori che poi ha permesso l'avvio rispetto alla redazione di questo nuovo regolamento 2019 anche qui registriamo un dato di spesa molto elevato in particolare a carico dei servizi sociali quasi 12 milioni di euro 12 milioni di euro sì fatta eccezione dei costi rispetto al collocamento dei minori stranieri non accompagnati in comunità e la spesa sanitaria eccola qui si attesta a 2 milioni e 54 mila euro per cui diciamo un impegno da parte dei servizi socio sanitari con un appesantimento sicuramente dei servizi sociali un impegno di spesa sicuramente importante a questo punto che cosa abbiamo fatto abbiamo fatto un po' un lavoro che da un punto di vista amministrativo io non sono un amministrativo puro ma insomma gli amministrativi forse hanno da rilevare questo aspetto abbiamo fatto un po' un lavoro a riproso nel senso che si è partiti prima che dal regolamento sulle comunità minori dalla definizione delle linee guida per l'accoglienza di minori in comunità residenziali e semi residenziali le linee guida che si ispirano alle linee guida previste a livello nazionale ovviamente si concentrano per lo più sugli aspetti relativi alla presa in carico e quindi concentrano la loro attenzione sugli aspetti metodologici che i servizi avrebbero dovuto o dovrebbero adottare nell'accoglienza dei minori in comunità questi tre servizi e queste linee guida prevedono tre specifici percorsi di presa in carico per i minori in comunità una presa in carico più di carattere socioeducativo che esiti poi in un progetto educativo individualizzato un percorso educativo cosiddetto educativo riabilitativo integrato cioè per quei ragazzi che richiedono anche interventi a livello sanitario a bassa intensità che esiti poi in un progetto educativo riabilitativo integrato ed infine l'ultimo percorso che è quello strettamente terapeutico e sanitario che esita poi nel progetto terapeutico riabilitativo con queste linee guida si era dato anche avvio a un percorso ambizioso che era quello di una volta definito regolamento come avevo accennato prima prevedesse un rientro di tutti i minori collocati fuori regione questo appunto per facilitare anche il processo di riunificazione successivo con le loro famiglie di origine che appunto dalle quali erano stati separati con decreto del Tribunale di Norettio le nostre linee guide in allegato come vedete non entro nel merito di questa tabella però mostrano appunto tutto il processo di presa in carico mostrano tutto il processo di presa in carico in cui vediamo come attori principali il servizio sociale le aziende sanitarie l'unità di valutazione multidimensionale unità di valutazione multidimensionale che noi ritroviamo in tutti i piani nazionali non solo quelli riferiti ai minori ma il piano nazionale dei servizi sociali lo troviamo nel piano nazionale per la non autosufficienza lo troviamo nel piano famiglia insomma tutti i piani nazionali più recenti e infatizzano e sottolineano il ruolo dell'unità di valutazione multiprofessionale e noi avevamo appunto già nelle nostre linee guida introdotto in allegato appunto questo processo questo processo di presa in carico un altro elemento e qui entriamo in un discorso più meramente amministrativo che consente poi di fare da punte a quello che il collega Emiliano Visentini adesso da un punto di vista complessivo del nuovo regolamento vi dirà in una legge nella legge di stabilità del 2019 si è introdotto per la prima volta un passaggio cioè a dire che per coloro per i ragazzi collocati in comunità semiresidenziali o residenziali con profilo di bisogno in socio sanitario a quel punto la spesa relativa alle rette giornaliere è a carico in parte del servizio sociale dei comuni per il 50% per il 50% in carico al servizio sanitario regionale e quindi e quindi in questo modo ecco che già in legge di stabilità si era cominciato ad introdurre alcuni aspetti che poi sono stati recepiti nel regolamento e sono stati ben esplorati nel regolamento sulle comunità minori che adesso appunto il collega Emiliano Visentini vi illustrerà anche rispetto poi a tutto quello che è stato il processo di digitalizzazione che ha accompagnato quest'ultimo anno quest'anno da marzo in avanti insomma rispetto alle nuove autorizzazioni e a tre di commenti delle comunità presenti sul nostro territorio passo la parola al collega intanto grazie per l'attenzione grazie allora Luca per questa introduzione che appunto ha delineato quali erano i presupposti da cui si diceva preso vita il regolamento allora dal punto di vista normativo e amministrativo abbiamo un punto di partenza che era il regolamento del 83 del 90 che lo dice la data stessa perché negli anni non era neanche stato praticamente modificato risultavo obsoleto prevedeva un'offerta di servizio limitata perché non contemplava determinate tipologie di strutture che nel corso del tempo a livello nazionale erano andate erano maturate quindi ad esempio le comunità specifiche per il genitore bambino quelle per i minori stranieri non accompagnati i servizi semiresidenziali prevedeva requisiti che non erano più adeguati e che non erano in linea con le indicazioni nazionali più recenti appunto come aveva accenato prima il collega in particolare le linee guida nazionali del 2017 che in qualche modo davano indicazioni alle regioni e le stimolavano a disciplinare la materia secondo appunto indicazioni indicazioni uniforme sul territorio nazionale il seconda cosa il regolamento il vecchio regolamento non prevedeva l'attuazione di istituti che erano già presenti sia nella normativa nazionale sia in quella regionale cioè l'accreditamento delle strutture la vigilanza e il monitoraggio sulla qualità delle prestazioni erogate dalle strutture bene quindi il mandato l'obiettivo di cui ci siamo fatti carico era quello di riformare nel modo più organico e più complessivo la regolamentazione dell'intera materia per riclassificare tutte le strutture esistenti sul territorio regionale sulla base delle caratteristiche appunto stabilite da un nuovo regolamento che fossero coerenti con la disciplina nazionale diversificare l'offerta a fine di rendere adeguata i bisogni di minori che appunto sono sempre più complessi e quindi richiedono servizi diversificati tipologie di strutture diversificate introdurre l'accreditamento per garantire qualità e uniformità dei livelli delle prestazioni e per fissare degli standard appunto di qualità che prima erano in qualche modo un po' a macchia di leopardo che dipendevano dalle procedure di affidamento che i vari servizi facevano con le strutture ma che erano appunto non erano omogenei nel territorio regionale e come detto prima un obiettivo era quello aumentando diversificando l'offerta e rendendola più attrattiva di contenere ricorso a strutture fuori regione perché chiaramente come abbiamo visto prima si tratta fra spesa sociale spesa sanitaria spesa premisna 20 milioni di euro all'anno di fondi che chiaramente se vanno a finire fuori regione è una perdita è una sconfitta per la regione stessa ecco quadro normativo di riferimento allora qui ci sono appunto norme nazionali e norme regionali che appunto chiaramente sono coerenti con le norme nazionali che stabiliscono la 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 separazione delle competenze le attribuzioni delle competenze ai vari entri entri che dopo vedremo entrano in gioco nei processi l'articolo 6 della legge 328 prevede tra le funzioni dei comuni l'autorizzazione l'accreditamento e la vigilanza delle strutture residenziali e semi residenziali e gestione pubblica o degli enti del terzo settore e di altri privati sulla base appunto della disciplina adottata dalle regioni così pure stessa cosa speculare lo ritroviamo anche nella legge 6 del 2006 e l'articolo 10 appunto per quanto riguarda le funzioni delle regioni la norma nazionale e poi anche quella regionale prevede che le regioni sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato definiscano quali siano i criteri per l'autorizzazione dell'accreditamento e la vigilanza delle strutture che provvedano a istituire dei registri dei soggetti autorizzati e definiscano requisiti di qualità per la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni stessa cosa appunto lo ritroviamo anche nella legge regionale la legge 6 che appunto disciplina sistema integrato di interventi e servizi sociali dove attribuisce alla regione il compito di definire requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento e di stabilire le procedure strutture un ulteriore attore che entra in campo quando si parla appunto di autorizzazione e accreditamento delle strutture sono nella nostra regione i servizi sociali dei comuni servizi sociali dei comuni che per quanto riguarda la disciplina organizzativa istituzionale della nostra regione sono forme di gestione associata delle competenze comunali in materia di politiche sociali e interventi sociali cioè il territorio della regione è diviso in aree territoriali in ambiti territoriali aggregazioni di comuni che tramite una convenzione attribuiscono la delega alla gestione di determinati servizi sociali a un ente gestore che può essere un ente un comune capofila un'azienda sanitaria o un'azienda pubblica di servizio alla persona che appunto gestisce per conto di tutti i comuni associati determinate funzioni di base e altre che possono essere attribuite volontariamente dai comuni quindi abbiamo gli articoli specifici sia della norma nazionale che della norma regionale che prevedono l'autorizzazione e l'accreditamento di nuovo l'articolo 11 della 328 ci dice che le strutture sono autorizzate dai comuni e che i comuni provvedono all'accreditamento adesso veniamo alle norme specifiche della legge 6 che prevedono il regolamento attuattivo a cui abbiamo dato seguito l'autorizzazione appunto viene data dal comune e viene concessa alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività o allegale rappresentante della persona giuridica della società che è in gestione della struttura prega verifica del possesso dei requisiti strutturali tecnologici organizzativi previsti dalla disposizione statale regionale di materia l'articolo del seguente riguarda la vigilanza e prevede che tutta la funzione di vigilanza sulle strutture venga esercitata in forma associata quindi da parte dell'ente gestore del servizio sociale dei comuni e parimenti l'articolo 33 prevede che le attività di accreditamento sono esercitate anche questo in forma associata dal servizio sociale dei comuni e però appunto per inosecua la normativa statale prevede comunque che il relativo provvedimento di accreditamento anche se tutta l'attività è demandata all'ente di storia dell'ambito e viene comunque rilasciato dal comune sede di struttura l'accreditamento chiaramente per definizione poi costituisce un titolo necessario per le strutture per avere rapporti con le strutture quindi abbiamo un regolamento che per quanto riguarda le strutture residenziali e semi residenziali per minorenni dà attuazione a questi tre articoli 31 32 33 della legge 6 che prevedono espressamente regolamento di attuazione per la definizione della tipologia dei servizi delle strutture che sono soggette all'autorizzazione la definizione dei requisiti minimi generali per il loro funzionamento la disciplina di tutte le procedure per il rilascio la modifica la conferma dell'autorizzazione le modalità con cui viene effettuata la vigilanza e tutte le sanzioni conseguenti in caso di violazioni appunto degli standard tutte le procedure del processo di accreditamento e l'istituzione e le regole di tenuta del registro regionale delle strutture altre norme che appunto rientrano nella disciplina di questa materia come abbiamo visto prima la normativa nazionale prevede la 328 prevede che le regioni definiscano quali sono i requisiti di autorizzazione di accreditamento sulla base dei requisiti minimi strutturali organizzativi che sono stabiliti dallo Stato che sono stati stabiliti con il regolamento di PCM 21 maggio 2021 numero 308 poi appunto ci sono le linee guida nazionali di accoglienza minori che hanno stabilito quali sono a livello nazionale una serie di raccomandazioni di indirizzi alle regioni su come disciplinare appunto le strutture prevedendo anche una serie di tipologie che poi sono state riportate nel nostro regolamento e una legge di stabilità del 2018 che prevedeva una nuova classificazione di tutte le strutture in particolare quelle per minori e per disabili già autorizzate per lo 083 nel 90 quindi c'era già un tentativo in qualche modo di prescrivere che era ora di iniziare a lavorare per in qualche modo ridisciplinare tutta la materia e poi ci sono le linee guida regionali per la presa in carico dei minori che sono state prima spiegate dal collega ecco qui riporto solo l'indice senza entrare nel dettaglio del regolamento di quello che appunto è stato il decreto del Presidente della Regione numero 158 del 7 dicembre del 2022 come vedete appunto si suddivide in prevede le disposizioni generali un capo dedicato all'autorizzazione un altro all'accreditamento alla vigilanza all'estituzione del registro una parte importante di cui diremo poi che sarà appunto in corso di attuazione è la definizione della retta e di tutti gli obblighi informativi a carico delle strutture e poi tutta una fase di disposizione transitoria finale di prima applicazione che riguardano sostanzialmente la fase di riclassificazione di tutte le strutture esistenti nel momento in cui è entrato in vigore il nuovo regolamento allora per quanto riguarda l'autorizzazione si è cercato appunto visto che l'autorizzazione ha carattere personale ce lo dice la norma di distinguere requisiti soggettivi che devono essere in capo allegati rappresentanti della struttura quindi requisiti morali ed onorabilità e quelli che sono requisiti oggettivi sono requisiti strutturali organizzativi gestionali e di personale nel regolamento sono presenti due allegati sostanziali uno che definisce e descrive le tipologie le varie tipologie di strutture e un secondo allegato che riguarda appunto tutti i requisiti di autorizzazione e di accreditamento specifici per ogni tipologia di struttura si è fatta una scelta alla luce appunto della ripartizione delle competenze che sono delineate appunto dalla legge nazionale e dalla legge regionale tra chi controlla cosa quindi nel regolamento è stato chiarito le competenze e i compiti di ogni ente che è coinvolto nel procedimento quindi per quanto riguarda l'autorizzazione i requisiti strutturali e organizzativi gestionali sono stati ripartiti in due con la competenza del comune con il supporto di azienda sanitaria e servizi sociali mentre per quanto riguarda l'accreditamento chiaramente si parla di qualità delle prestazioni qui abbiamo visto la norma di prima che che prevede che tutte le attività che riguardano l'accreditamento vengano gestite a livello di ambito con con il supporto della regione tramite un organismo tecnico per l'accreditamento questo organismo che è stato istituito con legge regionale dal 1022 è stato proprio pensato e istituito in occasione appunto di questo regolamento perché quando si parla di accreditamento chiaramente si parla di qualità di servizi quindi qualità di servizi che devono essere coerenti e omogenei in tutto il territorio regionale quindi era necessario istituire un organismo che avesse una certa regia che facesse da supporto agli ambiti per garantire appunto questa omogeneità nelle procedure di accreditamento ecco procedure di autorizzazione e accreditamento c'è stata una scelta come vedremo poi che partite un po' dal basso di scegliere di gestire tramite il SUWAP perché il SUWAP perché chiaramente per rispettare anche la natura stessa del SUWAP le finalità che ritroviamo nelle leggi di settore del SUWAP c'è l'esigenza di coordinare l'attività di più enti in procedure che sono particolarmente complesse la necessità di avere un punto di accesso unico per l'utenza e la necessità di digitalizzare e di standardizzare uniforme e uniformare le procedure di renderle più semplici e più trasparenti e poi per anche per si colpa l'occasione del SUWAP perché è un'infrastrutturazione che era già presente in tutti i comuni e quindi poteva dare un supporto una regia in tutte le procedure appunto relative a questo regolamento quindi a livello di ruoli il SUWAP gestisce e guida il procedimento amministrativo oppure all'istruttoria formale rapporti con utenti e amministrazioni il comune gli enti terzi quindi comune sede la struttura l'ambito per quanto riguarda i requisiti organizzativi e gestionali e le aziende sanitarie per quanto riguarda il lascio di pareri igienico-sanitari hanno una responsabilità endoprocedimentale svolgono un'istruttoria sostanziale per gli aspetti di competenza che mandano nei pareri e nel caso del comune il provvedimento finale di autorizzazione o credito amministrativo quindi così a grandi linee il flusso il SUAP riceve l'istanza la relativa documentazione chiaramente svolge tutti i controlli formali per vedere se la documentazione è in regola con quelli che sono gli standard e inoltre ha comune all'ente gestore dell'ambito sociale e all'azienda sanitaria il comune ha il compito di verificare i requisiti di onorabilità del regale rappresentante quindi requisiti soggettivi di autorizzazione e quelli strutturali tramite i propri uffici tecnici l'azienda sanitaria rilascia un parere igienico sanitario e l'ambito verifica i requisiti organizzativi e gestionali alla fine il comune rilascia un provvedimento di autorizzazione che viene comunicato dalla sua ai destinatari stessa cosa con un po' più semplice per quanto riguarda l'accreditamento chiaramente qui non c'è il ruolo dell'azienda sanitaria perché tutta l'attività viene gestita a livello di ambito da parte dell'ente gestore dei servizi sociali dei comuni che rilascia un parere e lo comunica al comune di struttura che rilascia il provvedimento finale di accreditamento tempi per autorizzazione dell'accreditamento sono procedure piuttosto complesse sono stati definiti appunto nel massimo possibile in 90 giorni della presentazione della domanda è previsto visto che come vedremo poi si è trattato di riautorizzare tutto l'esistente chiaramente molte strutture non sapevamo che non erano a posto con i requisiti perché appunto erano coerenti con una disciplina piuttosto vecchia e quindi è stato previsto che se la struttura non rispetta requisiti le viene concessa la possibilità di adeguarsi entro un termine massimo di 180 giorni al termine appunto del tempo che viene concesso e delle prescrizioni che vengono impartite si va a verificare se c'è stato rispetto appunto di tutte le raccomandazioni e poi si procede a una nuova verifica per concedere l'autorizzazione o rigettare la domanda in via definitiva per quanto riguarda la vigilanza sull'autorizzazione e accreditamento anche qua è un istituto nuovo che è introdotto da questo regolamento che prima non c'era e prevede una cadenza periodica meno ogni tre anni oppure su specifica segnalazione per quanto riguarda le verifiche sono le stesse competenze chiaramente del procedimento principale di autorizzazione e accreditamento quindi il comune verifica requisiti strutturali l'azienda sanitaria e i geni cosanitari e l'ambito e quelli organizzativi gestionali anche qua al termine delle verifiche se vengono riscontrate delle irregolarità vengono impartite delle prescrizioni e i termini entro i quali adeguarsi e se non c'è un trovamento ci sarà la revoca in caso di appunto mancata o temperanza come abbiamo visto prima uno dei punti che la legge chiede che venga attuata da regolamento è l'istituzione del registro regionale qui abbiamo tentato di semplificare al massimo le procedure prevedendo che l'iscrizione e l'aggiornamento avviene ufficio a cura della regione della direzione salute sulla base delle comunicazioni che il SUAP fa ai destinatari dei provvedimenti quindi quando rilascia l'autorizzazione viene comunicata anche a noi che con un decreto del direttore di servizio lo iscriviamo con tutte le informazioni necessarie e lo rendiamo pubblico nella pagina del sito della regione ecco dicevo prima che uno dei punti che diciamo qualificanti questo regolamento è la parte delle rette che chiaramente in questo settore visto anche che con la regolamentazione precedente non c'erano non erano fornite indicazioni non c'erano regole sulle rette adesso vengono invece introdotte questo per far sì che le ricognizioni che avevamo anche fatto prima dell'emanazione del regolamento si vedevano pratiche un po' diciamo federogene nel senso che per le stesse strutture per gli stessi servizi c'erano dei divari di retta non giustificabili in alcuni casi e quindi il tentativo è quello che non è ancora attuato abbiamo introdotto le basi almeno regolamentari per farlo di prevedere innanzitutto un obbligo di comunicazione quindi di trasparenza delle rette alla regione e poi la possibilità con un atto di giunta di definire dei criteri di determinazione della retta a seconda del tipo di strutture quindi del tipo di utenza che c'è dentro delle necessità dei minori che sono accolti e appunto l'indicazione di retta di riferimento per garantire l'omogeneità sul territorio il percorso di costruzione del nuovo regolamento allora siamo partiti a settembre del 2021 con una prima bozza in cui non avevamo pensato al SUAP un po' perché appunto per abitudine nostra non era uno strumento non era un istituto che eravamo abituati ad usare perché chiaramente lo abbiamo utilizzato non fa parte pienamente del nostro ambito di competenza poi sono stati avviati dei tavoli di confronto con gli stakeholders tanto con i gestori privati delle strutture tanto con gli enti coinvolti appunto nelle procedure in una fase piuttosto lunga che è nata da gennaio del 2022 in agosto in cui c'è stato maturato appunto uno una per virgolette una un confronto appunto con con i gestori per capire come definire i requisiti e come far sì che potessero essere diciamo rispettati e chiaramente non potevamo andare a mettere in discussione tutto tutto l'esistente dovevamo garantire garantire la continuità dei servizi quindi per non mettere in crisi tutti i gestori abbiamo in qualche modo lavorato per trovare dei requisiti che potessero andare bene pur non mettendo in discussione quelle che era l'esigenza di garantire la la qualità dei servizi e poi un grosso lavoro è stato fatto con sostanzialmente con i servizi sociali dei comuni per in qualche modo andare a definire le procedure ed è qui che è nata appunto l'esigenza di provare a pensare anche al SUAP come coordinatore delle procedure per appunto renderle più più trasparenti più più agevoli e quindi avere un organismo che potesse appunto coordinare varianti nelle diverse competenze di ognuno e anche appunto come si diceva sfruttando l'infrastrutturazione tecnologica e tutto quello che comporta il SUAP e quindi siamo arrivati a settembre del 22 con l'elaborazione di una bocca definitiva del regolamento e a ottobre del 22 con l'avvio di l'itera di approvazione del regolamento che è stato piuttosto lungo perché a livello istituzionale appunto sono regolamenti che prevedono vari passaggi di confronto con le autonomie locali con le commissioni consigliari competenti e poi c'è stato l'avvio di un gruppo di lavoro regionale fra direzioni appunto fra la nostra direzione salute e fra la direzione che si occupa dello SUAP e che appunto grazie al loro supporto abbiamo iniziato a lavorare con calendarizzando incontri settimanali per andare a costruire dal punto di vista informatico telematico tutte le procedure che a gennaio del 23 è entrato in vigore il regolamento e parallelamente sono state attivate le procedure abbiamo anche portato avanti un'attività di informazione e di supporto sia alle strutture sia agli enti appunto coinvolti nel procedimento che è consistito prima in una in una serie di incontri di webinar per spiegare il regolamento con l'attivazione di un indirizzo mail al quale far concluire tutti questi quesiti sulla appunto sull'applicazione del regolamento e poi con la pubblicazione sul sito della regione nella pagina dedicata delle facche che appunto sono arrivate ormai a più di 80 facche tra domande e risposte ecco il regolamento stesso prevedeva prevede che entro marzo entro 31 marzo 2023 tutte le strutture esistenti proprio per far partire questo processo di rilassificazione presentasse domanda di autorizzazione e di accreditamento sulla base di nuovi criteri e appunto a marzo sono arrivate le prime domande quindi abbiamo adesso tentiamo di fare un'autocritica ecco di vedere quali sono secondo noi i pregi e le criticità ancora aperte di questo regolamento allora sicuramente il SUAP ha dimostrato di essere uno strumento di coordinamento fagliente e di stimolo per lo sfrugimento più cedere e ordinato della procedura abbiamo visto che sul territorio proprio grazie a questo lavoro di coordinamento è considerata anche la necessità di mettere insieme varie competenze e di lavorare assieme sono nate iniziative di coordinamento fra tutti gli enti coinvolti ci sono state appunto riunioni presentive alle fasi di valutazione sopra luoghi in comune sia da parte degli uffici tecnici dei comuni sia con i servizi sociali e sia anche con le aziende sanitarie e parallelamente con la stesura di verbali di sopralluogo in comune quindi ci sono state anche pratiche di lavoro in comune quindi costituzione di gruppi di lavoro dedicati alla materia gruppi di valutazione in ogni ambito che garantiscono appunto una specifica preparazione su questa materia e oltre che per ogni ambito socio-assistenziale anche di area vasta quindi più ambiti che hanno collaborato assieme per dare vita a dei gruppi di funzionari che sono specializzati in questa materia poi c'è stato un ruolo crediamo importante di indirizzo e supporto della regione come dicevo al fine di rendere omogenea l'applicazione del regolamento quindi sono stati organizzati webinar abbiamo implementato le pagine web dedicate che abbiamo pubblicato le fac che sono state garantite una consulenza telefonica praticamente costante riceviamo tuttora una serie delle richieste di chiarimenti o di supporto e abbiamo organizzato anche incontri sia tanto con i soggetti gestori delle strutture che con appunto gli enti coinvolti nelle procedure ecco qua velocemente adesso non so se riusciamo ad aprire le pagine comunque come dicevo abbiamo implementato una pagina dedicata ecco grazie a Narita ecco questa è la pagina appunto del sito della regione che è dedicata esclusivamente al regolamento in cui viene spiegato il regolamento si trova la documentazione più in fondo ci sono i riferimenti appunto all'ottor Chico e poi varie informazioni e nella colonna di destra in alto viene riportata appunto la documentazione e l'indirizzo al quale chi è interessato può scrivere per avere consulenza vengono pubblicate le FAC come dicevo prima e anche pubblicato il registro regionale delle strutture autorizzate poi c'è un'altra pagina speculare nel 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 sito del suo per la regione che anche qua riporta una serie di indicazioni specifiche sul regolamento su come vengono lavorate le varie domande le procedure eccolo con appunto tutti la colonna la colonna di destra sono tutti i procedimenti che abbiamo costruito insieme ai colleghi del gruppo tecnico SUAP in fondo appunto vengono definiti quali sono i requisiti per ogni per ogni struttura vengono vengono indicati i procedimenti collegati ci sono varie istruzioni vari moduli ci sono dei diagrammi di flusso del procedimento ecco possiamo tornare sulle slide come dicevo appunto abbiamo istituito la mail di supporto giuridico che la vedete in fondo regolamento comunità minori chioccio la regione fmg.it ora veniamo ai punti di debolezza e criticità allora una premessa secondo me doverosa per dire che è ancora difficile discriminale quali criticità sono attribuibili al nuovo processo alle nuove procedure che recate dal regolamento e quali alla situazione contingente di riautorizzazione di tutte le strutture esistenti come dicevo prima questo regolamento per rispondere alla norma che prevedeva una riclassificazione di tutto l'esistente chiaramente è andato a determinare un effetto che molte sono giunte molte domande di autorizzazione e accreditamento nello stesso momento perché chiaramente erano dei termini delle stadenze ben descritti nel regolamento che andavano rispettate quindi si è trattato di autorizzare riautorizzare sulla base di nuovi parametri oltre come diceva prima anche il collega Luca Chico oltre 100 strutture nel territorio regionale le istruttorie sono complesse articolate cioè i requisiti da verificare sono oggettivamente molti e presuppongono il coinvolgimento di diverse professionalità quindi si va come detto prima dalle requisiti strutturali che sono di competenza degli organi degli uffici tecnici ci sono le competenze dei requisiti organizzativi e gestionali che sono di competenza delle verifiche che deve fare l'ambito ci sono i pareri genico-sanitari quindi in prima applicazione appunto si è trattato di valutare sulla base di nuovi parametri che saranno stati anche in qualche modo concordati e ammorbiditi con tutta la fase di confronto con le strutture ma che comunque in molti casi hanno messo un po' in discussione le strutture già esistenti che a causa del fatto che erano disciplinate da regolamentazione vecchia che nel tempo in qualche modo era diventata obsoleta anche di fatto la loro organizzazione si era un po' attestata su quegli assetti organizzativi che appunto non erano più idonei e non sono più idonei a rispondere alle esigenze appunto che riscontriamo nella quotidianità tutto questo chiaramente deriva una difficoltà nel rispettare i tempi di procedimento e riapplicare benissimamente tutte le procedure che sono proprie del suo e anche del regolamento stesso in linea di massima appunto c'è anche questa difficoltà che è un po' è una conseguenza abbastanza tipica nel momento in cui si fa una revisione pesante della normativa nella difficoltà di far capire che non si tratta solo di una burocratizzazione del sistema ma di un tentativo finalizzato a far crescere i servizi nell'ottica della qualità e della differenzazione dell'offerta e che appunto per raggiungere questo obiettivo qua si sono messe in atto delle procedure di semplificazione di digitalizzazione che sono andate in quell'ottica però chiaramente dal punto di vista della comunicazione di far capire questa uno che era un atto dovuto perché il sistema non reggeva più alla alla modernità insomma alla quotidianità più di altro ecco un altro punto è come aveva detto Monica all'inizio è la materia che non è abituale per il suo sono chiaramente più orientati alla parte produttiva alla parte all'avvio di versi commerciali mentre qua è una materia un po' sui generis che va capita che ha le sue peculiarità che ha appunto procedimenti che sono un po' più più complessi o comunque che vanno capiti allora cosa pensiamo ci sia ancora da fare siamo arrivati appunto come dicevo operativamente le prime domande sono arrivate a marzo di quest'anno quindi a questo punto siamo arrivati a una cinquantina di autorizzazioni su cento previste quindi è chiaro che una grossa fetta di autorizzazioni non sono state ancora completate quindi quale conseguenza sarà da capire da fare una ricognizione di tutte le strutture delle quali non è ancora prevenuta autorizzazione e mettere in atto le azioni di supporto conseguenti nei confronti appunto di quei comuni che ospitano strutture ma che hanno ancora che devono ancora in qualche modo arrivare ai provvedimenti di autorizzazione parallelamente è chiaro che va fatta ancora un'attività forte di formazione sia per i gestori privati sia per gli enti interessati che dovrà essere accompagnata appunto dalla predisposizione di documentazione di supporto di manualistica di modelli di app per gli enti per assicurare l'omogeneità perché anche qua chiaramente abbiamo visto che dai provvedimenti che ci vengono trasmessi c'è ognuno ha le sue particolarità quindi come giusto anche che sia però chiaramente sarebbe bene arrivare a una standardizzazione anche della manualistica sarà da verificare alla luce dell'aggiornamento delle linee guida nazionali che sono del 2017 sulla base delle quali questo regolamento appunto ha preso avvio sarà di verificare se parallelamente sarà da aggiornare il regolamento una volta che queste nuove linee guida diverranno pienamente esecutive e poi chiaramente valutare se sono possibili semplificazioni procedurali quali per esempio la scia è chiaramente una materia un po' delicata nel senso che l'autorizzazione preventiva all'avvio dell'attività è stata anche pensata proprio perché non sono strutture diciamo sono strutture che hanno un certo peso sul territorio per cui prima di avviare l'attività è bene che venga portata la procedura però chiaramente se il sistema tra qualche anno sarà maturo tutte le strutture esistenti saranno già autorizzate chiaramente le regole saranno ben definite e i procedimenti saranno ben rodati forse sarà anche possibile introdurre delle semplificazioni procedimentali per quelle strutture che intendono insediati nel territorio ecco vi ringrazio che abbiamo chiuso per la relazione per quanto ci riguarda vi ringraziamo per l'attenzione e lì lasciamo appunto gli indirizzi mail sia mio che del collega Luca Chitto e abbiamo ancora qualche minuto per qualche domanda prendo io la parola perché mi pare che al momento non ci siano domande forse proprio per il tipo di webinar che ha fatto una panoramica però volevo dire partecipanti che visto che avete gentilmente messo a disposizione i vostri indirizzi mail oltre alla posta di progetto alla quale possono scrivere anche domande successive possono essere accolte e trovare risposta mi scuso perché ci sono stati momenti in cui l'audio è peggiorato quindi ci sono stati momenti con un brutto fruscio le slide saranno disponibili dal pomeriggio come la registrazione perché qualcuno in chat lo chiede all'indirizzo dove vi siete registrati su eventi PA soltanto una piccola cosa ho fatto poi c'erano persone che avevano difficoltà ad entrare e quindi c'è una parte di partecipanti che è entrato come ospite e loro non troveranno ovviamente la presenza registrata e quindi non avranno la segnalazione per scaricare l'attestato che verrà però la presenza verrà attestata quanti hanno preso parte ad almeno la metà del webinar detto questo ah c'è una domanda invece che arriva la fase di verifica delle strutture che coinvolge i SUAP come detto qui le competenze sono già definite in legge quindi ci sono a seconda dei requisiti richiesti sono di competenza dei vari enti coinvolti nel procedimento quindi per la parte di requisiti soggettivi che riguardano i requisiti di onorabilità quindi sostanzialmente l'antimafia il casellare giudiziario vengono verificati dal comune così come la parte strutturale quindi degli infiussi tecnici mentre tutta la parte organizzativa gestionale viene gestita dall'ambito dal servizio sociale dei comuni quindi dall'ente gestore dell'ambito e la parte per quanto riguarda l'autorizzazione viene acquisito al parere igienico-sanitario dell'azienda sanitaria che concluiscono poi appunto in un provvedimento unico che viene rilasciato dal comune e comunicato dall'azienda va bene grazie spero che la collega che ha fatto la domanda sia soddisfatta c'era qualcun altro che stava scrivendo ah ha un problema di linea e spero che possiate recuperare le persone che hanno avuto tanti problemi di linea spero che possano recuperare dalla registrazione perché a livello centrale ci sono stati momenti come vi dicevo in cui l'audio non era perfetto però non c'erano grossissimi problemi detto questo io ringrazio tantissimo i relatori per aver messo e per aver condiviso con noi questa esperienza davvero molto interessante e vi do appuntamento alla prossima volta buon proseguimento buona giornata a tutti ripetere tutti ok grazie a tutti grazie a tutti